24 sono i giocatori che la società per ora ti ha messo a disposizione e di questi ragazzi alcuni li conosci già hanno fatto qualche apparizione in rapida vera l'anno scorso molti sono nuovi come ti sembra il gruppo che hai partiamo da qui innanzitutto buongiorno a tutti sì allora abbiamo una buona base perché comunque anche l'anno scorso che si parla di qualche mese fa abbiamo finito comunque il campionato con che nella distinta della della primavera c'erano già parecchi 2004 e quindi quest'anno si parte da quella base lì ed è normale che comunque ogni anno che passa le rose vanno vanno cambiate perché comunque è fisiologico abbiamo qualche qualche 2005 che comunque la società spera e cerchiamo di farli crescere e quindi ecco come tutti gli anni bisogna mettersi comunque nelle condizioni di poter fare il doppio lavoro l'obiettivo di tenere la categoria che è fondamentale l'obiettivo di far crescere qualche ragazzo che che magari poi riesca ad approdare nella in prima squadra come è successo poi in in definitiva con valdanzi con lo stesso aslani che poi è andato via con mattia viti due anni fa e con fazzini che è il duccio degli innocenti che sono tutt'ora in ritiro con la prima squadra quindi l'obiettivo deve essere questo senti antonio è banale ma devo fare qual è l'obiettivo stagionale qual è l'obiettivo della stagione antone riusci sarà soddisfatto a fine stagione se se teniamo la categoria è normale noi noi l'anno scorso abbiamo avuto e forse una gestione un po non dico sbagliata però sai quando una squadra fa quello che tutti sappiamo inaspettatamente dove arriva un risultato secondo me strepitoso perché comunque vincere un campionato non è mai facile tant'è vero a Empoli è successo in primavera quando c'era se non erro gelain nel lontano 97 98 ecco quindi è un qualcosa che succede ogni 25 anni ecco quindi noi sappiamo che la categoria nostra lo scudetto nostro è la categoria tenere la categoria la primavera 1 perché comunque anche per la società è un obiettivo importante il fiore all'occhiello non nel settore giovanile quindi perché poi dalla primavera si passa si passa in prima squadra e quindi ecco l'obiettivo deve essere quello noi cerchiamo di raggiungere questo obiettivo e dobbiamo essere consapevoli che lo scudetto nostro è quello poi ripeto se magari l'anno scorso c'erano altre aspettative col campionato che è passato bisogna un attimino guardare alla realtà l'Empoli non può fare assolutamente delle degli investimenti esosi in primavera nel settore giovanile perché assolutamente non può farlo e la speranza la bravura nostra è quella che con diciamo con il minimo indispensabile e a volte anche con qualcosina in più si riesca a raggiungere gli obiettivi gli obiettivi l'ho accennato prima e far crescere dei ragazzi e poi mantenere la categoria quindi la soddisfazione mia e quella dello staff e dei ragazzi della società è che si riesce a diciamo a tenere la primavera 1 sentite lo devo chiedere perché è una cosa che mi ha colpito molto c'è stato pochi giorni fa un report della federazione italiana gioco calcio che io su cui farò un pezzo fra l'altro fra poco su pianeta Empoli ma in questo report tra le altre cose si fotografa lo stato del calcio italiano e è la federazione stessa che dice che è drammatico specialmente perché non si lavora in modo sufficiente nei vivai questo lo dice la federazione non lo dico ecco tu che cosa ne pensi di questa valutazione del presidente federale ma sai fabrizio si ritorna ai soliti discorsi all'estero e qui in italia e d'altronde qui in italia purtroppo per certi versi abbiamo una mentalità un po un po particolare perché fa notizia in un ultimo ecco cristian aslani che diciamo il fiore all'occhiello del mercato in questo periodo che è un 2002 che ha vent'anni che lo piglia l'inter e che magari leggo che sta facendo comunque comunque un'ottima un'ottima preparazione un ottimo per campionato ma si vedeva anche qua Empoli quando poi ha prodato in prima squadra fa notizia vent'anni sembra che sia un qualcosa di anormale vai a vedere all'estero a vent'anni ci sono ragazzi che hanno fatto già dieci partite in champions league è una mentalità che purtroppo abbiamo in italia detto questo il lavoro di vivai poi sta alle società e a chi magari mette a disposizione una certa mentalità la mentalità che abbiamo a Empoli è quella che negli anni almeno questo è il decimo anno che faccio settore giovanile è il quarto anno di primavera è anche una una cosa soggettiva è normale non ci si nasconde dietro un dito ogni allenatore cerca di raggiungere il risultato sul campo ma io prettamente per questa strada cerco di raggiungerlo con la crescita dei ragazzi perché una partita due partite tre partite le vinci magari con l'episodio con un po di fortuna che ti gira un po meglio e poi ci sono anche tante altre partite che se non c'hai una mentalità se non hai se non sei positivo se non cerchi il risultato attraverso il gioco quindi attraverso il migliorare i ragazzi secondo me fa più fatica e qua a Empoli secondo me è fondamentale portare a casa il risultato ma attraverso la crescita dei giovani dei ragazzi che poi ripeto diventa vitale far crescere qualche ragazzo e che lo porti in prima squadra che poi la prima squadra riesca a fare le proprie fortune ecco guarda un'ultimissima cosa a proposito di crescita viti aslani baldanzi fazzini degli innocenti mi sembra che aggiungo bellardinelli anche se momentaneamente a cui non è qui aggiungo donati che secondo me sarà un giocatore importante di prospettiva per l'Empoli quindi di crescita mi sembra che ne hai fatta abbastanza ma ti dico dopo dieci anni come ti senti ancora quali sono ancora le sue motivazioni per il settore giovanile ma guarda prima che iniziasse ritiro ho parlato con il direttore a cardio ho parlato con il presidente con il responsabile Bargagna è normale che dopo tanti anni ci si possa fare qualche domanda sugli stimoli sull'entusiasmo a me quello non manca e quindi mi serve ancora per fare un anno importante per me importante per ragazzi ho più responsabilità questo è vero perché comunque più passa il tempo più cresci più passano gli anni e bisogna maturare quindi c'è sempre da imparare a 45 a 50 anni a 55 anni eccetera quindi sarà un anno un po particolare ma un anno dove c'è ancora da arricchirsi di esperienza quindi è un gruppo dove negli anni si è sempre detto che il 2004 era un gruppo un po in difficoltà compreso qualche 2005 vedremo sarà una sfida importante sarà comunque una situazione che porterà secondo me più stimoli e quindi siamo siamo qui per questo io parlando con la società ho manifestato entusiasmo perché senza quello non può andare da nessuna parte è normale ci saranno comunque dei problemi perché ci mancherebbe in tutte le stagioni abbiamo affrontato e ho affrontato delle problematiche di risultati magari le cose non non andavano per il verso giusto ma nel corso degli anni quindi sarà una gestione come tutti gli anni diversa perché non tutti i gruppi hanno bisogno sempre delle stesse cose ma soprattutto sotto l'aspetto mentale quindi ci sono tanti stimoli e quando ci sono degli stimoli e gli obiettivi e l'entusiasmo siamo siamo a buon punto quindi ripeto adesso due tre giorni che abbiamo iniziato sul campo vediamo un po la società dove metterà le mani perché comunque qualcosa manca e poi vediamo Fabrizio a maggio quello che succede ce lo diremo a quattro occhi Grazie 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 a tutti.